allora analizziamo il primo paragrafo player aggiunta la possibilità di attribuire ai file audio la trasposizione prima della partenza cosa vuol dire allora con la 208 noi non potevamo diciamo di decidere un valore di trasposizione diverso da quello che è l'originale prima di riprodurre un brano e ve lo faccio vedere qua io ho questi due file amarillo mp3 e amarillo web che cosa faccio se vedete a fianco al tempo 120 in alto io aziono diciamo un valore di trasposizione più 2 1 e 2 fate attenzione quando inizio a riprodurre il brano questo valore si azzera vedete quindi praticamente questo valore che io ho selezionato prima della partenza mi viene annullato adesso vado sul web scendo meno 2 parto quindi l'unico mezzo è questo qua iniziare e poi aumentare la domenica il che significa insomma a quando difficoltoso e noioso e la catron praticamente ha risolto questo problema nella 209 e ve lo faccio vedere nel prossimo video a dopo allora eccoci qua con la 209 e vediamo come il problema è stato risolto allora io seleziono il brano e prima di partire applico il valore di trasposer che voglio avere in questo caso io metto più 1 quindi vuol dire che la base aumenterà di mezzo tono come potete vedere il valore rimane a più 1 e la base sale di mezzo tono vediamo adesso la basso di mezzo tono meno 1 quindi prima di partire prima di iniziare io posso decidere il mio valore di trasposer come pure per il file web vediamo metto più 1 ok problema risolto grazie a tutti